Eh, aspetta, allora, mo che volete, un applauso? No, e che devo fa? Eh? Che devo fa? Ah no, ma che vuoi fa? Che volete fa? Dicemelo voi, che volete fa? E io gli ho detto che deve abortire. Regà, prima di lasciarvi a questo video, datemi l'opportunità di prepararvi psicologicamente alla dose di degrado, anche se non basterà, perché il degrado è molto di più. Ma comunque, oltre a questo, vi chiedo personalmente di seguire il video fino alla fine, ma non per qualcosa in particolare, perché è divertentissimo e soprattutto alla fine sarà una scena da non dimenticare e da non perdere, quindi fatelo, mi raccomando. Guardate però tutti i punti del video, perché è un degrado continuo questo video, quindi non perdetevi neanche un secondo. E chiaramente fatemi sapere anche con un commentino qui sotto se il mese prossimo volete rivedere un obbligo verità, magari anche con un altro youtuber o con un altro ospite speciale. Non mi sa che la telecamera è messa a cazzo. Bella ragazzi e bentornati qui, in questo mio canale, con questo video, mi verrebbe da dire speciale, ma in realtà no, non lo è, perché non è mai speciale, tutti i video sono speciali, autostima questa. E torna però un ospite specialnalissimo, specialnalissimo a sacchere i commenti, ovvero... Oggi siamo qui con un obbligo verità, il secondo obbligo verità che ho portato sul canale, l'altro l'ho portato con... L'homo sespoale. Bravissimo, ho imparato subito, vedete che è attuale questo Alessio. E oggi è un video bello, perché lo sappiamo già che un video è bello, lui non sa mai negli obblighi e nelle verità. Mortaggio, io so soltanto un obbligo. È vero. Che spero di non fare. Questo è in questo meraviglioso cappello del... Gentilmente offerto da... Gentilmente offerto da non se dice. Perché poi... Ah, qui non c'è scritto Harrison Pub. Ah, però l'ho detto io. Sei un coglione! Dentro, come vedete, andiamo a mescolare, siete un cazzo, ma vicino, regà. Eccole qua, eccole qua. In rosso ci sono gli obblighi, in bianco. Vabbè, non è nessuna cosa messa qua. Se ci sono daltonici? E infatti, vabbè, non fa niente. Noi siamo autostimatici. Autostimatici bibili. Quindi, a questo punto, iniziamo. A questa virgola. Stai in fuori. Petto in fuori. Due punti. Che andiamo in palestra? Due punti, io non vado in palestra. Tu ce l'hai dentro. Io faccio pallare. Io ho l'onore, proprio perché il canale è mio. Prego, mischia e parti. Attenzione che si respira e si taglia come un coltello. La pensione. Come un coltello. Se la prendo subito, mi taglio le palme. Chi, vabbè, perché deve essere chi chi è? Io lo dico. Allora, attenzione. Questa è una verità. È una verità. Attenzione. È una verità. Mostra, mostra, che poi non ci credo. È una verità. La posso leggere io. È bianca, no. Devo leggere io. No, Vito parti la domanda. Vito parti la domanda e tu rispondi. Sì, zitto. Il pesca deve rispondere. Non funziona così. Lo so io, non lo leggo io. È video mio! Six and a half hours late. Ecco, l'unica che ho detto da capitata è capitata. Abbandoneresti YouTube per una ragazza. Ma io non ho un canale YouTube. Quindi sì. Immagino la risposta sia sì. Mentre per me, già ho detto una volta, che se non dovrei rispondere, ma questa è la valese di intervenire a me, la risposta è no, assolutamente. E ho già risposto. Quindi questa qui. Che arancio poderoso. Pum, è un aranino. A questo punto tocca a me. Beh, vabbè, schiace, che cazzo mi dà il cappello? Perché appunto, già tanto che tolto il cappello, ho tolto la cappella. Come la non la dai a me? La dai a Bibi. Obbligo. Sub, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, dagliela a lui, dagliela a lui, dagliela a lui, dagliela a lui. No. Vai a chiedere in giro alle persone anziane e non se conoscono Fede Marconi. Sì, sì, regà, avete capito bene, ma dato che verrebbe una cosa troppo epica, se raggiungiamo, e ve lo giuro, se raggiungiamo i 5.000 mi piace sotto questo video, lo vado a fare. Io e il mio cugino in giro per Roma a chiedere se mi conoscono. Vai, vai bro, è il tuo momento. È quel momento in cui, è quel momento in cui veramente se... Un'altra verità, sì. Un'altra verità, non buccia di cuore. E' un po' che ho venuto i obbligati. Per l'età. Eh, ma per tutte quelle che non mi dà me, che ha venuto a te. Allora, se una tua fan, anziché chiederti una foto o un autografo, ti chiedessi un bacio, però tutte per me ne sono, palesemente... Ma no, fan, quindi non so... Quindi mi rigiri la domanda, e io ti dico che se... Carina, perché no? Scusa, cioè non è che mi faccio problemi, e lo sai. Allora ragazzi, andiamo con la mancia successiva. Non guardare, non devi guardare. Verità. No, obbligo. Ma che cazzo! Sì, sì! Non mi resi che mi... Ma io già sto a sudare. Ti credo che stiamo a aprire. Allora. Allora, in una pentola d'acqua, piena d'acqua, metti una moneta e cerca di prenderla con la bocca. Cioè, devi bagnarti. Non te l'ho detto così, bro. Cioè, devi prendere una pentola e poi fare... E prendere la moneta. Andiamo. Andiamo. È ufficialmente passato al microfono della telecamera. Andiamo, bro. Ma qui non c'è sulla tua faccia. È piena, è una più grande, è deficiente. Questo è tipo il coso del papa. Uno se lo mette in testa. Piena, eh? È piena, è piena. Andiamo in giardino a fare questa cosa? È per forza. Allora, aspetta, chiudi gli occhi. Chiudi se tu gli occhi. Ok. Perché non devi sapere dov'è la monetina. Ecco. Al mio tre immergi la faccia senza guardare, eh? Vai, eh. Uno, due, vai. Dov'è la pentola? Vai dritto, vai dritto a te, vai. Che schifo. Ma che coso? Aspetta, non posso guardare, quindi non posso neanche... Mamma mia, che vita di merda. Ale. Eh? Se poco a poco scopri che la monetina ce l'hai levata... No, no, sta dentro. Il vino non esiste. Sta dentro. Lo so, io. Sapevo che ti ha male. Ehm... 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 Guarda, sta da questo lato. Da quale lato? Ok. De che cose... Aia! Ancora! Non è che mi può fare così la testa. Cioè... Ma che un porno pare. Ma come cazzo faccio? Scusa, risucchia. Si risucchia l'acqua finché non ti ritrovi la moneta a bocca. Allora, facciamo più sul posto che io non sono bravo a succhiare. Risucchia! Inspira l'acqua. Tanto è acqua... No, manca di che acqua potabile, quindi la puoi bere. Ce l'ha fatta. Che schifo, guarda la bava che scende dal mento. Ok, signori, siamo di nuovo qui. Allora, se si stanno... Spieghiamo situazioni. Se vi state chiedendo... Perché... Sormai ha boffato tanto la minchia che non potevo stare in pantaloncini. Ma perché, giustamente, adesso loro stanno chiedendo, ma che so, ho passato già tre mesi? No, no. Infatti, diciamoglielo, andate alla fine del... Cioè, vedetevi tutto il video, però, mi raccomando, fino alla... Se dice, andate alla fine del video. Fino alla fine questo video. Anche qui, a parte che è evico. Però poi vi dovete vi guardare tutto il video fino alla fine perché succederanno... Succederanno tutto, tutto, troppe cose, cazzo. Vai, ricominciamo. Allora, ti toccava a te perché io sono sfigato. Non c'era più roba. Quindi vai. Ma se non ti obbligo pure te, te la diti meno. Vedete bene. Perché, che, 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 mo' voglio vedere che... Mo' è un'altra domanda per me, sicuro, eh. Vediamo. Allora. Alla domanda. Preferiresti baciare a stampo una ragazza bruttissima, che non è bruttina, ma bruttissima, o sespo? Bruttissima. Eh, sì. È bruttissima, vuol dire proprio... Mamma mia, puzza, è brufoli. Sespo. Sespo. Qual è stata la tua ex più porca? Metro! Il metro! Che schifo, hai preso la... Hai preso la sciabbarabba alla scuola. Praticamente diciamo che lei nutre dei sentimenti molto forti nei miei confronti e... Eh no, niente, lei ha cominciato a fare... Che tra l'altro, se voi andate qui sopra nelle schede... Non mi ricordo mai se stanno qua sopra... No, stanno di qua. Se andate qui sopra nelle schede, trovate i video con sespo. In questo momento, in cui ne parlavo, quindi... Ti stanno liamando. Eh, infatti. Ottimo! È la ora, finalmente! Ti voglio, ti voglio, proprio... Fai uno scherzo telefonico a tua madre e dille che hai messo incinta una. Anche perché considera che io non glielo potevo fare. Stavo al piano di sopra, sa che sto registrando un video, quindi... Io lo potevo fare. Adesso scopriremo il perché. Senti, prego, devi essere credibile, bro. Oh, Emma, senti, devo dire una cosa abbastanza importante. Allora, l'ultima volta che Matilde è venuta a dormire a casa... E vabbè, l'abbiamo fatto. Si era rotto il preservativo e oggi mi ha detto che ha fatto il test della gravidanza e risulta positivo. Ale, vai a cagare, mamma. Ma passi lunghi e ben distesi, proprio. No, non è uno scherzo. Ale, non fate i cretini che vi prenda a calci in culo a tutti e due se venite qua stasera. Non è uno scherzo. Eh, vabbè. Allora, mo' che volete? Un applauso? No, è che dove va? Eh? Che dove va? Ah, no, ma che vuoi fare? Che volete fare? Dite me lo vuoi, che volete fare? E io gli ho detto che deve abortire. Chi c'è con te, Ale? Vabbè, mi voglio dire, sei il più bello. Obbligo. Indossa, pregisero. In cameretta di tua mamma. Subito. Caci mia. Ma sopra la maglia o sotto la maglia? Eh, sopra la maglia o sopra la maglia. Reggisero, tu te lo metti al culo, bro. Ah, che? È diventato un porno, ma togliate questo video. Dici che sono pronti? Prontissimi. Che prende l'è? Eh, mi sa che è una quinta. Ma se è tette che c'è la mia madre? Oh. No, biglore, cazzo. Dai, io. No, ti prego. È quello che penso io. Fammi la leggere. Fammi la leggere. Allora, signori, per tutto il video ha gufato. Ho detto, magari la prendi te, la prendi te, la prendi te. Alla fine, lui, signori, ha preso. Fai la Salt and Ice Challenge. E per chi non sapesse cos'è, consiste nel mettere in una mano il ghiaccio e il sale e teoricamente per una questione scientifica. Adesso ho scarso di scienze, quindi non mi chiedete la motivazione. Però mi posso dare a sto reggisero, bro. Cioè, vabbè, mi volevo dopo. In pratica gli va a fuoco con la mano. Cioè, fuoco no, però gli brucio la mano. Andiamo. Comunque io alla fine di questo video mi sto sfruttando però. Mi sono sputtanato ufficialmente in tutta la famiglia. Beh, questo video è contro i miei. No, devi versare te il sale poco per volta sulle mani. Aspetta, prima che devo mettere il ghiaccio. Però devo tenere, cioè, devo stare così, quindi massimo due, tre cubetti mi ci posso mettere. Eh, la madonna, questi tanti, che c'è la mano? Mentre sei che hai fatto? Poco per volta, bro. Poco, poco. Mettici le mani nel cestino, però. Vai, bro! Vai, bro! Vai, bro! Vai! Brucia? Ora, hai capito cosa si prova quando lo riprende al culo? Mi si sta perfurando la mano. Vabbè, va, lo puoi anche posare. Come va, bro? Porco te, ora hai le mani. Vuoi vedere l'intercamera? Vai là, vai là, vai là. Vai là. Mi si è... È pernata la mano. Il palmo della mano. Ma un asciugamano? Buttati. Come butto? Tre. Adesso mi butto. Due. Uno. Ma sti cazzi che sporca, c'è fredda, è quello che mi preoccupa. Allora, io lo dico qui e non lì. Questo video deve arrivare a cinque mila like. Cinque, no, quattro, eh, due, uno, no. Cinque. Vabbè, tre, due, uno. Porco tu. Però è, non è, cioè, è meno peggio da aprire, eh. Cioè, da aprire stiamo riuscimando. Ancora, ho dovuto pulire l'obiettivo della videocamera perché era arrivata tipo una gocciolona d'acqua incredibile. Girati, 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 girati. Girati. No, no, guarda, guarda dritto davanti a te di là. No, no, guarda dritto davanti a te di là. Non hai niente da dichiarare. Neanche su tuo nipote che si è appena buttato in piscina. Comunque, il mio dio ve l'ho detto, cioè, questo video per Sespo, per Nozze, per Sergix, per Devers, per Mariasole Pollio. Ragazzi, Mariasole vuole che questo video arrivi a cinquemila like. Ha detto che se questo video arriva a cinquemila like faremo un video insieme io e lei. Accontentiamo Mariasole. E niente, ci becchiamo al prossimo video. Grazie a tutti.